Negli anni 90 non era Natale senza Fantagirò. Tratta dalla fiava popolare italiana Fantagirò Persona Bella, la serie di film con protagonista Alessandra Martinez è stato un vero e proprio cult fantasy italiano tra il 1991 e il 1996, diventato con il corso del tempo un vero e proprio appuntamento imperdibile di Natale. Perché anno dopo anno, proprio in corrispondenza del Natale, i cinque film sono stati trasmesse a ripetizione da Mediaset. Altro che una poltrona per due. E poi vabbè ragazzi, vogliamo parlare di Romualdo e Tarabas. Cioè no, parliamone davvero perché io ancora adesso non saprei proprio chi scegliere. Pensate che il fenomeno Fantagirò riuscì ad uscire dai confini nazionali per approdare pure in Spagna, dove venne creata una serie di animazione che venne poi trasmessa anche da Italia 1. E la sigla ovviamente la cantava la nostra Cristina Davena. Ora però ti farò una domanda molto molto importante e se la risposta è sì, mi raccomando, lascia un like a questo video e seguimi per altri contenuti nostaldici a tema anni 90. Ma tu te lo ricordi Fantagirò? E come potreste averlo dimenticato direte voi?